ciao amici ma salutate ciao in diretta dal laghetto sette cannelle guardate che spettacolo ma devo fare il video pure quando passiamo sotto qua che sembra un tunnel mazza che bello si dice come ci avete ci avete stato abitato in quel posto qua vicino sai state vicino a fondi e due passi dalla campagna bello proprio andate voi avanti così vi riprendo pure si piano piano però piano leo che mo io devo guidare con una mano sola ecco nel tunnel nel monte bianco guardate che spettacolo ma qua è bello davvero si intanto c'è un'altra bicicletta la solo che mamma stacca sempre tardi la sera mannaggia ora si staccava alle sei e mezza come un altro scorso e se no è la mattina di lavoro ci potete venire con lei sabato mattina ci abbiamo il matrimonio con la scuola con le lampadine si e dice la luce la bici si si bello proprio ma lo metto su youtube stasera ce lo facciamo vedere a mamma su youtube che dite va bene ma appena metto stop lo carico su youtube leo saluta saluta ma qua a destra ragazzi è a destra però a destra leo e no andiamo a vedere qua io non ci sono mai stato qua io vado piano piano andate sorpassate i miei ambi ciao ecco il cucuruzzo bravo che fanno bene alla salute e all'umore ebbè dopo 100 km ci voleva un altro giro in bici a me ah qua è chiuso però qua siamo arrivati questo è un campanello no bello qua questo è proprio un giardino sistemato le pranchine bello proprio qua questo è un giardino 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 è un giardino